Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A15 per lavori in direzione Parma, 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze e Scandicci e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Direttissima in direzione Firenze rallentamenti tra il Bivio A1 variante e Badia. Sulla Fipili in direzione Firenze per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, 2 km di coda tra Empoli ed Empoli Est. Per lavori 1 km di coda tra Ponte Adela Est e San Mignato. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!